Musica Anno 1462, Costantinopoli era caduta. I musulmani turchi dilagarono in Europa con un immensurabile, fortissimo esercito attaccando la Romania e minacciando tutto il mondo cristiano. Dalla Transilvania si levò un cavaliere rumeno del Sacro Ordine del Dragone, conosciuto come Draculia. Alla vigilia della battaglia, la sua sposa, Elisabetta, la cosa più cara che aveva sulla terra sapeva che egli avrebbe dovuto affrontare una forza insormontabile per la quale avrebbe potuto non tornare più. Grolog Nevada Sperюсь Moral La sua storia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no